Due problemi mi sembra ostacolano ancora oggi in misura notevole la diffusione del libro in Italia. Bisognerebbe continuare, e la politica già è iniziata, ad elevare costantemente, progressivamente, il livello di vita del popolo italiano. In secondo luogo mi sembra che bisogna dare alla gente più tempo da leggere. Bisognerebbe, cioè, a mio avviso, passare alla settimana di 40 ore lavorative che desse a tutti gli italiani, non solo la domenica, ma anche il sabato, per riposarsi e per distrarsi.